Sono Battista Vincenzo, vicepresidente della Croce Verde di Vigevano e sono associato all'Ampas che oggi festeggia i suoi 120 anni a livello nazionale, però noi siamo a livello regionale Ampas Lombardia. Quindi siamo qui per illuminare in arancione il Duomo di Vigevano e quindi è il colore ufficiale che Ampas prefigge di evidenziare in tutto il territorio nazionale. Buonasera a tutti, io sono Fabio Negrello, volontario e consigliere della Croce Azzurra Vigevano e questa sera siamo qui insieme alla Croce Verde, nostra consorella di Vigevano, proprio per festeggiare i 120 anni di Ampas. Ampas è l'associazione nazionale delle pubbliche assistenze che si occupa non solo di soccorso sanitario ma anche di protezione civile e formazione proprio in questi settori.